Paola Magoni, una giovanissima atleta, 40 anni fa, faceva la storia dell'uscita italiano. Com'è rivivere quelle emozioni 40 anni dopo? È una grande emozione anche perché il mio paese mi ha dedicato questo pomeriggio con l'aiuto del mio presidente di allora, Angelo Bertocchi, questa festa stupenda che mi dà tanta soddisfazione perché vuol dire che ho fatto vivere dei bei momenti a tutti i miei tifosi. Ecco, come era andata quella giornata? C'era nebbia, non era prevista la sua vittoria? Che cosa si ricorda? Ma c'era la nebbia, però non era una nebbia impossibile perché vabbè poi le telecamere sai benissimo meglio di me che ti schiacciano un po' la visibilità. La prima mancia era andata bene perché eravamo tutte lì attaccate e tra la prima e la seconda il mio pensiero è stato o vinco oggi o non vincerò mai più nella mia carriera perché era un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Quindi ho cercato di sciare al meglio, ho sciato bene e fortunatamente è andata bene. Un ricordo al papà immagino che ha vissuto quella giornata e che oggi ricorderemo, è stato ricordato anche sulla stampa, un compagno in quell'avventura. Sì, sì, assolutamente. Se non ci fosse stato mio papà, tutto questo non sarebbe successo perché è stato un po' il nostro traino sia nello sport che poi nella vita. Mio papà e mia mamma sono stati fondamentali, ci hanno guidato in questo sport e hanno creduto nelle nostre possibilità facendo tanti sacrifici che speriamo tutta la famiglia abbia ripagato. Ecco, oggi qua vediamo il grande abbraccio di Selvino. Come è stato rientrare a Selvino 40 anni fa? 40 anni fa è stata una festa allucinante, cioè una roba, ma non solo perché mi hanno accolto i selvinesi, ma perché penso che si sia trasferita tutta la bergamasca in massa a Selvino perché non si riusciva neanche a salire dalla strada di Nembro da tanta gente che c'era. Quindi sicuramente per me è stata un'emozione grande, ma come lo è tuttora oggi. Angelo Bertocchi, il grande abbraccio di Selvino a Paola Magoni, a tutto lo Sciclub, a Tony Morandi. Una giornata memorabile. Beh, direi memorabilissima. Proprio in questo momento qua stavamo ritornando da Jaurina, scendavamo giù a Sarajevo dove poi andavamo al palazzetto per le presentazioni di Alta Bandiera. Mi viene ancora l'emozione, ma purtroppo 40 anni fa eravamo giù a Sarajevo. Io e il papà della Paola, quindi è stata veramente una cosa bellissima. Perché ho avuto questa festa qua? Perché la Paola la merita. La merita perché da lì è partito tutto. La Paola Magoni ha portato il nome di Selvino in tutto il mondo. E questo noi dobbiamo essere gli riconoscenti che sono passati 40 anni. Direi che è il minimo che dobbiamo fare per lei. E oggi Selvino vi rende onore a quello che avete fatto poi anche negli anni a venire, perché lo Sciclub Selvino ha avuto tanti altri nomi importanti. Partendo dalla Paola Magoni, poi è arrivato Toni Morandi, che ha lasciato la Nazionale per venire nello Sciclub Selvino. E poi tutto il resto è girato dietro. Perché diciamo che veramente il Toni e la Paola, tutto il resto è andato veramente in uno slancio e ha fatto crescere i ragazzi. Abbiamo qui nove atleti, nove che sono andati in Nazionale, più Guinness dei Primatici, guardate Fratelli Bergamelli. Abbiamo visto comunque che siamo l'unico Sciclubi in Italia che ha vinto due medaglie olimpiche, con Paola Magoni e Deborah Compagnoni. E poi sicuramente abbiamo veramente tenuto in alto Selvino per tantissimi anni. Abbiamo dominato anche tante volte con la nostra squadra, con i nostri campioni. Quindi direi che abbiamo fatto, io sono stato presidente per 40 anni, abbiamo fatto veramente tanto. Scusatevi, ma è proprio tanta l'emozione. Perché rivedere tutto di quello che è stato fatto in questi 40 anni, credetemi, è una gran bella sensazione che va a ripagare tutti i sacrifici, di tutto quello che abbiamo fatto per il nostro Paese e per lo sci bergamasco, lombardo e nazionale.